La seconda tappa dell'anno congressuale comprende il tempo di Avvento e Natale fino all'inizio della Quaresima. Siamo invitati a riflettere sulle attese profonde degli uomini. Impariamo dal Signore a sollevare il nostro sguardo verso l'umanità che ci circonda e a ripensare alle nostre strutture pastorali partendo da bisogni reali e spesso inespressi. Abbiamo il coraggio e la determinazione di rivedere consuetudini, stili, orari, linguaggio perché le nostre comunità diventino canale adeguato per l'evangelizzazione. Metterci nella prospettiva di chi è periferia rispetto alla comunità cristiana. Che cosa c'è da cambiare? Quali scelte missionarie possiamo pensare per avviare il rinnovamento?